amministrative duemila ventuno ben trovati da Antonella Almentano in studio per questa tribuna a cura della TGR un saluto anche agli ascoltatori di Rai Radio 1 si vota per le amministrative il tre e quattro ottobre nel Lazio centosei comuni alle urne due capoluoghi di provincia Latina e Roma ci occupiamo della capitale chiamata a eleggere il primo cittadino 22 i candidati a sindaco li abbiamo suddivisi in tre appuntamenti in base a un sorteggio effettuato alla presenza del Correcom Lazio così come è stato sorteggiato l'ordine delle tribune degli interventi questa eh tribuna è stata registrata il ventuno settembre oggi quattro i ospiti in studio allora cominciamo dalla prima domanda tra i temi più sentiti dai cittadini c'è quello relativo alla mobilità e ai trasporti dalla manutenzione delle strade alle buche dal potenziamento dei mezzi pubblici oggi più che mai necessario per il rispetto delle nuove anti covid fino alla cosiddetta mobilità alternativa Fabiola Cenciotti il popolo della famiglia il tema della mobilità nella capitale grazie buonasera a tutti sì il popolo della famiglia vuole creare una città la città la città eterna a dimensione famiglia ma in che modo ovviamente dando delle risposte delle politiche nette forti decise a sostegno non solo delle famiglie ma soprattutto delle famiglie affette da pendolarismo ovviamente quindi immaginiamo un'interconnessione tra le zone extraurbane e le zone urbane in che modo cercando di disincentivare il traffico verso la zona urbana e cercando di stimolare il pendolarismo affinché possa lasciare il proprio veicolo nelle zone periferiche andiamo a creare dei parcheggi parcheggi magari anche caratterizzati con dei silos interni o da elevazione mettiamo installiamo delle telecamere di videosorveglianza facciamo poi continuare il pendolare o attraverso una banchina ferroviare o attraverso una metropolitana o addirittura anche attraverso del gommato ma in che modo delle vetture e le immagini al netto delle barriere architettoniche anche vetture green oppure ibride o completamente elettriche Fabiola Cenciotti il popolo della famiglia sì il popolo della famiglia risponde dicendo sì al termo valorizzatore no la discarica sia l'ottimizzazione del ciclo di rifiuti in che modo ovviamente cercando di rendere il rifiuto non più un costo bensì una risorsa economica attraverso lo studio di fattibilità il popolo della famiglia dichiara di andare a individuare dei centri dei punti fertili su cui andare a creare questi impianti di utilizzo di recupero e di trattamento e poi mi preme particolarmente sottolineare una leggera chiosa noi dobbiamo anche un po' fronteggiare questa uscita delle imprese italiane verso gli investimenti ucraina o romania cioè l'impresa italiana spende all'incirca approssimativamente 100 milioni di euro per andare a restituire un termo valorizzatore in romania un'icraina o addirittura intorno ai 25 milioni di euro per andare a costruire un gasificatore questo fa sì che esce sicuramente in outsourcing questo processo industriale esce sicuramente con dei costi tutt'altro che possono essere abbattuti inoltre dico che lo smaltimento dei rifiuti in italia grazie a un prezzo la qualità della vita a roma il tema del decoro urbano è sempre attuale arrivere di manutenzione dei marciapiedi delle strade la sicurezza in città e arriviamo alle periferie anche grandi bacini elettorali al centro delle campagne dei candidati sicurezza e riqualificazione servizi quali le priorità fabbiola cenciotti il popolo della famiglia sì sicurezza e ordine pubblica è proprio il terzo obiettivo del nostro programma elettorale del popolo della famiglia perché noi andremo ovviamente a fronteggiare quei fiumi di droga che attanagliano tante piazze della nostra città parlo delle piazze della movita perché lì c'è una perdita di coscienza di noi stessi andremo a fronteggiare la prostituzione e il racket perché lì c'è un racket che schiavizza delle donne e lucra ma in che modo attraverso una politica di interforze ovvero sia andiamo a potenziare il coordinamento tra tutte le forze dell'ordine polizia carabinieri vigili del fuoco guardie forestali anche gli istituti di vigilanza andiamo a presidiare soprattutto alcune aree della città perché noi famiglie abbiamo bisogno soprattutto quando i nostri figli escono di stare come di crogiolarsi in quello che potrebbe essere una culla di sicurezza per i nostri ragazzi andiamo a installare delle videocamere di sorveglianza soprattutto in alcuni varchi della città e soprattutto andiamo come donna dico anche a installare delle colonnine di SOS di emergenza ultima cosa per gli esercenti patto di sicurezza siamo all'ultima domanda che è dedicata ai programmi dei singoli candidati quale il primo punto la prima delibera Fabiola Cenciotti il popolo della famiglia il popolo della famiglia pone la famiglia al centro del dibattito politico appena eletta sindaco varerò il reddito di maternità un sostegno netto chiaro deciso forte nei confronti della famiglia mille euro al mese al netto delle pressioni fiscali per tutte le donne romane che hanno figli a Roma fino all'ottavo anno di vita del bambino si rigenera ad ogni nascita ovviamente se mai ci dovessimo trovare al cospetto di situazioni di disabilità o minoritarie dovrà essere ovviamente un vitalizio poi Roma deve festeggiare la nascita di ogni figlio con un bonus bebè di 2500 euro perché è una sorta di augurio di benvenuta alla nascita di un neonato non fermiamoci qua dal bonus bebè a reddito di maternità andiamo a riparametrare i criteri soprattutto a sostegno delle famiglie numerose abbattiamo le addizionali comunali perché dico questo perché il popolo della famiglia propone una decurtazione del 25 per cento ad ogni figlio all'interno di un nucleo monoreddito e poi no ai progetti di morte no all'eutanasia grazie